Letizia di Spagna come Kate Middleton. Hanno molte cose in comune e il loro percorso sembra destinato a diventare il medesimo. Letizia di Spagna e Kate Middleton sono due donne iconiche. Entrambe apprezzate in tutto il mondo per il loro stile impeccabile e la loro eleganza. Condividono un percorso simile che le ha viste trasformarsi da comuni cittadine a donne di spicco di due importanti famiglie reali europee. Le loro vite caratterizzate da grandi responsabilità mostrano come queste due donne straordinarie affrontino il loro ruolo con grazia e determinazione. Scopriamo insieme perché sembrano destinate a percorrere la stessa strada. Letizia di Spagna come Kate Middleton. Le foto che provano la loro inclinazione ad essere simili Letizia di Spagna e Kate Middleton catturano l'attenzione del pubblico con il loro fascino e la capacità di mescolare tradizione e modernità. Entrambe sanno mantenere una presenza pubblica forte, sono simboli di eleganza e dedizione ai loro doveri reali. Questo le ha portate a essere spesso paragonate l'una all'altra. Soprattutto quando si tratta degli outfit che indossano in occasione di eventi pubblici. Di recente, Letizia di Spagna ha fatto parlare di sé durante la cerimonia di nomina militare della figlia Leonor. Per l'occasione, la regina ha scelto un abito floreale firmato Maie, che aveva già indossato nel 2020. Il gesto di riciclare il guardaroba fa parte anche del modo di essere di Kate Middleton, che lo fa spesso. Entrambe dimostrano un approccio sostenibile e consapevole alla moda. Anche Kate Middleton non è da meno quando si tratta di eleganza. La duchessa di Cambridge ha fatto visita a uno degli ospizi per bambini dell'organizzazione Itch dove ha indossato un abito floreale molto grazioso ed elegante. Le sue scelte spesso riflettono un equilibrio perfetto tra stile formale e moderno. Proprio come Letizia. Le foto di Kate Middleton e di Letizia di Spagna durante gli eventi pubblici spesso le ritraggono in momenti di affettuosa interazione con i figli e con il pubblico. La loro capacità di connettersi con le persone e dimostrare il loro lato umano le rende due figure di spicco molto amate. Kate Middleton e Letizia di Spagna sono due donne che non passano inosservate. Anche grazie a un comportamento impeccabile. Sono due donne che pur venendo da background diversi, hanno saputo adattarsi e affermarsi nei loro ruoli, conquistando il cuore di milioni di persone.